Il momento è solenne per me, per la società adriatica di spoliologia che rappresento. Notizie del genere fanno la storia del nostro territorio, della nostra cultura, dal punto di vista delle esplorazioni, dal punto di vista del valore umano, anche dal punto di vista geografico, perché ricordiamoci che l'ultima dimensione ancora inesplorata di questo pianeta è il sottosuolo, quindi quell'unico posto in cui ancora oggi un uomo può mettere per la prima volta il piede. Sono lieto di ufficializzare che la società adriatica di spoliologia, dopo 23 anni di lavoro, nella grotta Luftlock, ha scoperto un nuovo tratto sotterraneo del fiume Timavo. Questa scoperta porta alta l'attenzione sul nostro territorio, sul Carso, a livello locale ma anche internazionale, riporta Trieste, quella della spoliologia mondiale, nuovamente la ribalta dal punto di vista spoliologico, oltre i confini della nostra nazione.